Il manifesto di Missione Architetto. Missione Architetto nasce con l'espressa volontà di promuovere, comunicare e diffondere, ossia divulgare, l'architettura virtuosa. Lo farà con degli strumenti. Uno, un metodo progettuale finalizzato allo sviluppo di architetture pubbliche e private realizzate con principi di ecosostenibilità, domotica, arte e design, benessere, emozionalità, personalizzazione, risparmio ed infine luce e colore. Due, un processo di intervento sul territorio volto al recupero della qualità artistico-architettonica e urbanistica per il miglioramento ambientale. Tre, Missione Architetto spingerà iniziative per contrastare qualsiasi forma di prevaricazione normativa e burocratica che neghi al progetto d'architettura la propria autonomia e libertà espressiva ed artistica nel rispetto delle persone, dell'ambiente e del territorio. Quattro, Missione Architetto spingerà azioni atte a far conoscere i principi di deontologia professionale di Missione Architetto e affinché si valorizzi e consolidi una continuità nella qualità della produzione costruttiva secondo i valori proposti dall'associazione. E infine, l'ultimo punto del manifesto, spingeremo iniziative di altre associazioni no profit che svilupperanno azioni analoghe o complementari per promuovere l'architettura virtuosa.